Ciao! Ciao ragazzi! oggi Sara va a mostrare l'originale mocha coffee sai? mi piace! prima cosa bisogna aprire la macchina mocha poi lascia in acqua in acqua in acqua in acqua e poi in acqua un po' di acqua e poi con acqua in acqua Now, just close the neck. Be sure that it's very close. For three minutes, turn the heat down on a minimum. Now, just close the neck. Now, just close the neck. Now, just close the neck. Now, just close the neck.